Questa sera sul palco abbiamo dei grandi musicisti, forse passa un poco, abbiamo dei grandi jazzisti, musicisti di valore, che hanno suonato con tanti musicisti di tutto il mondo. Allora, abbiamo strumenti particolari, anche i miei. Facciamoli suonare, facciamo un pezzo, eh? E qui suoniamo, ragazzi. Bello, veloce, spinto. Un po' di piano. 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 Un po' di piano.